Entro la prima decade di dicembre i voli per Milano-Malpensa dall'aeroporto di Foggia potrebbero diventare quotidiani con la possibilità di andare e tornare in giornata il martedì. Una novità importante che la compagnia greca Lumi Wings potrebbe adottare incoraggiata dei dati delle prime settimane di operatività dal Ginolisa. Otto i voli che ogni settimana collegano Foggia con Malpensa. La media di riempimento finora è costante tra i 50 e i 60 passeggeri a tratta. Un dato ritenuto soddisfacente dalla Lumi Wings che utilizza un Boeing 737 da 139 posti. Ma al momento l'aereo non può trasportare più di 110 persone per il limite di 1800 metri della pista in attesa che gli ultimi ostacoli infrastrutturali vengano rimossi in modo da utilizzare altri 118 metri. Dal 2 dicembre partiranno i collegamenti per Torino e dentro la primavera saranno attivati i voli per Catania e Verona. A disposizione c'è anche un Boeing più grande con una ventina di posti in più. Tre le fasce di prezzo, 48, 132 e 164 euro. Più bassi non ce ne sono, non essendo una low cost. Da alcuni giorni la Lumi Wings ha lanciato una promozione che prevede 50 posti a 80 euro. È necessario però che siano i rappresentanti del mondo produttivo a sostenere i voli. Lo sottolinea il comitato vola Ginolisa che invita gli imprenditori e le associazioni di categoria del Foggiano ad acquistare i tagliandi per dare un segnale di vicinanza e fiducia all'aeroporto che è tornato all'attività il 30 settembre dopo ben 11 anni.